Assieme al sindacato vogliamo fare una forte denuncia di tipo pubblico anche alle autorità che sono più in alto nel nostro paese, dalla Presidenza della Repubblica alla Presidenza del Consiglio. Vogliamo sapere se è giusto che si violi la legalità in una regione in cui ci sono tanti paladini della legalità in apparenza. Vogliamo poi sapere dalla Procura della Repubblica di Palermo se esiste ancora il reato di esercizio abusivo della professione e se questo riguarda anche i giornalisti. Credo che sia un dovere della Procura di Palermo farcelo sapere e farlo sapere a tutti i cittadini di questa regione. Ci sono delle criticità anche per quanto riguarda il bilancio 2013 e questi 3 milioni di euro destinati alla comunicazione? Noi non abbiamo capito infatti dove sia il risparmio che il Presidente della Regione voleva fare con l'abolizione dell'ufficio stampa. Non abbiamo mai capito anche perché soltanto i giornalisti dovevano essere tagliati mentre invece continuano il precariato da tutte le parti che incide molto di più dei giornalisti. Noi non difendiamo l'esistenza dei 21 posti di lavoro, non difendiamo i singoli, i singoli si stanno difendendo bene da soli, noi li sosteniamo, ma noi vogliamo che i posti di lavoro siano riservati ai giornalisti e non al Presidente della Regione e ai suoi assessori che fanno il lavoro dei giornalisti. Avete intenzione di parlare con Crocetta nei prossimi giorni? Noi a Crocetta abbiamo scritto a gennaio, abbiamo scritto di nuovo a marzo, ha scritto il Presidente dell'Ordine dei giornalisti, il Presidente Crocetta ha ritenuto che il Presidente dell'Ordine dei giornalisti non conti niente. Mi rendo conto che questa è la sua valutazione, noi l'abbiamo pure invitato a venire qui, non ha ritenuto di doverci dire nulla, né di rispondere a questi garbati inviti che gli abbiamo fatti, né alla diffida che gli abbiamo fatto nel mese di marzo quando vedevamo ogni giorno i suoi comunicati firmati da lui e firmati dai suoi assessori. Il Presidente Crocetta ancora non ha dato delle risposte, avete in mente un colloquio? No, ogni tentativo di colloquio è fallito, evidentemente non ha nessuna capacità di dare risposte in questo senso, abbiamo tentato la via della diplomazia, abbiamo tentato ogni sorta di dialogo, ci è stato negato e questo è abbastanza grave perché nessuno si può permettere di negare il dialogo a un sindacato, qualunque sindacato sia. E quindi a questo punto non ci resta altro che procedere nei confronti del Presidente e di tutti gli assessori che firmano comunicati stampa, procedere penalmente con le denunce. Evidentemente la via del dialogo non è servita a niente. Presidente, ad oggi il Consiglio disciplinare e territoriale quali saranno i compiti e come sarà composto? Eredita sostanzialmente la parte disciplinare del Consiglio dell'Ordine, sarà composto e composto da nove membri ordinari e nove supplenti, il Presidente e il più anziano, ahimè sono io, la segretaria e la più giovane, cioè Lara Sirignano. Per quanto riguarda il resto, oltre ai compiti disciplinari di cui accennavamo, cercheremo di essere soprattutto un supporto ai colleghi, nel senso che i nostri numeri di telefono sono a disposizione di tutti. Se avete dei dubbi sulla deontologia, su come comportarvi eccetera, potrete ovviamente consultarci e credo che questo sia un sistema utile a far progredire la professione.